una domanda frequente che mi postate sia nei commenti di youtube o eventualmente anche sui social è come contattare l'assistenza di buy nance possono sembrare dei passaggi molto semplici però alcuni di voi hanno delle difficoltà e quindi ho deciso di portarlo in questo breve contenuto l'assistenza di buy nance la potete contattare sia con accesso all exchange oppure anche se non siete logati direttamente all exchange il mio consiglio è quello di contattare l'assistenza una volta che siete logati con i vostri dati personali e una volta che avete fatto l'accesso alla vostra dashboard vedete che in basso accetta stino supporto cliccando su supporto appaiono le classiche domande più comuni con delle risposte preimpostate arrivati a questo punto molti di voi che vogliono parlare direttamente con un operatore si trovano in difficoltà perché effettivamente non c'è il tasto immediato parla con un operatore allora cosa dovete fare per parlare con un operatore e se molto semplice dovete selezionare una domanda preimpostata più vicina alla vostra problematica supponiamo un esempio come verificare il conto se non è una bolletta un estratto conto si clicca arrivate a questo punto che cosa si deve fare se la risposta automatica non ci ha aiutato per parlare con un operatore è molto semplice bisogna scorrere verso il basso e andare a cliccare il tastino con il pollice in giù non risolta clicchiamo se non risolta clicchiamo su ok ci ripropongono alcune domande con alcune risposte che potrebbero aiutarci nella risoluzione automatica del caso proseguiamo con non rilevante arrivato a questo punto non ci resta fra l'altro che scrivere la nostra domanda specifica e cliccare su si trasferisci al servizio clienti una volta trasferita la domanda all'assistenza ovviamente non verremo magari messi in contatto immediatamente con un operatore ma passeremo in coda si può uscire tranquillamente dalla schermata di assistenza e si riceverà poi una notifica qualora un agente entri in chat disponibile alla risoluzione del nostro problema per mantenere aperta la conversazione con l'assistenza ai clienti bisogna rispondere al messaggio entro e non oltre 24 ore la stessa procedura che avete appena visto la potete fare esattamente con l'applicazione mobile mi raccomando una volta che avete contattato l'assistenza andate a lasciare una valutazione all'esperienza di chat sempre molto utile per far capire a bainance se gli interventi degli operatori ci sono stati di aiuto o meno nella maggior parte dei casi anche anzi il 99 per cento dei casi parlerete con un operatore in lingua inglese quindi aiutatevi nel caso non sappiate bene l'inglese con google translate